Che fine ha fatto Gwendalina Tavassi? La 31enne lanciata dal grande fratello Undici è oggi un'imprenditrice ma soprattutto una mamma e moglie felice. Sposata con Umberto da Ponte, si occupa dei tre figli Gaia, Chloe e Salvatore, per amore dei quali ha rinunciato alla sua attività di ristoratrice. Lo racconta la stessa Gwendalina in un'intervista in famiglia. Per sei mesi ci abbiamo lavorato io e mio marito, addirittura facevamo noi le pizze. Poi ho dovuto darlo in gestione. Il ristoratore non ha vita. Viva nel ristorante giorno e notte, non ci sono le weekend né vacanze. Quindi ho preferito lasciare la gestione in mano al mio socio e dare priorità ai miei figli. Perché è brutto quando ti chiamano per fare qualcosa assieme e poi non si può fare. La Tavassi fece scalpore all'edizione 2010 del GF proprio perché già mamma della primogenita Gaia. Dopo l'esperienza nel reality, ha trovato stabilità sentimentale al fianco di da Ponte, che ha sposato nel 2013. Poco dopo è venuta al mondo Chloe, mentre nel novembre 2015 la geffina è diventata mamma per la terza volta del piccolo Salvatore. Lasciata la gestione del ristorante, oggi fa la mamma ma si dedica anche ai social, come spiega in una dichiarazione destinata forse a sollevare qualche critica. Ho il mio piccolo lavoro su Instagram e altri social. È un impegno che mi piace molto e che riesco a gestire bene. A volte mi capita che qualcuno nei commenti mi scriva vai a lavorare. Ma non sanno che dietro ad ogni foto c'è una grandissima fatica. Non è facile fare foto sorridenti con un figlio che piange attaccato a una gamba, una figlia attaccata all'altra, e la più grande che strilla perché vuole uscire. Mentre il matrimonio con Umberto procede alla grande, siamo simili caratterialmente. E poi mi fa ridere tanto, è buono, è un ragazzo dedito solo alla famiglia. Lavora a Napoli e ogni weekend torna a Roma per stare con noi. A 30 anni pochi farebbero questo sacrificio, la Tavassi non ha abbandonato di tutto l'idea di tornare nel mondo dello spettacolo. Oltre alle ospitate a pomeriggio 5, potremmo vederla prima o poi alla conduzione di un show. Mi piacerebbe presentare un programma comico oppure, avendo partecipato a diversi reality, mi piacerebbe provare a condurne uno. Chi se ne frega.